Ciao a tutti ragazzi, qualche mese fa ho girato una breve clip che però non ho mai pubblicato su questo canale di YouTube ma che secondo me al momento è molto ma molto attuale come argomento quindi la parola al Simone del passato oggi niente allenamento che mi devo riposare però con questa giornata, con questa temperatura, con questo bel sole dico è un sacrilegio, non sfrutta almeno un po' d'aria, non prende almeno un po' d'aria così dico vado a casa in bicicletta però desudate, fatica, non mi andava quindi quale miglior soluzione di una bella bicicletta zero fatica zero sudore ti godi l'aria aperta silenzio dovrebbero fare tutti così una spesa neanche tanto grande adesso se trovate tutto anche usata ti liberi dalla macchina perlomeno nei giorni te lo permette il tempo e stai posto, stai benotto al giorno eccoci ritornati al presente ragazzi speriamo che questa situazione diciamo nefasta che ci è capitata porti anche qualcosa di buono favorendo magari anche in Italia lo sviluppo della bici intesa come mezzo di trasporto quindi con devi vedere se anche ora pensate come me io vi auguro una buona giornata ciao ciao Grazie a tutti